Timori e perplessità sul 5G, tecnologia di nuova generazione per la comunicazione mobile, una rete veloce che permette più connessioni con l'Italia che ha deciso di investire 40 miliardi di euro sul progetto, antene dunque più potenti con possibili effetti biologici e sanitari conseguenti all'esposizione umana a campi elettromagnetici. L'alleanza Stop 5G continua a far sentire la propria voce chiedendo garanzie a tutela della salute minacciata da un'overdose elettromagnetica senza precedenti. Il governo Draghi non ha consentito l'aumento della potenza delle antenne da 6 a 61 volt metro ma i miliardi stanziati per il progetto continuano a preoccupare. Il problema secondo Stop 5G è serio e la gente va sensibilizzata. Mariangela Cocchiaro, alleanza Stop 5G Lanciano. Troppo la digitalizzazione e tutto quello che riguarda l'internet delle cose, l'idea di poter avere più velocità, di poter avere più comodità diciamo che ha la meglio sul discorso del problema della salute. Io personalmente come tutti quanti noi che stiamo portando avanti questa iniziativa conosciamo bene diciamo la tecnologia, conosciamo bene i lati positivi però come si dice sempre deve essere la tecnologia a servizio dell'uomo. Di conseguenza la prima cosa che deve fare non deve nuocere. E viene anche rinnovato l'appello a Marsilio affinché calendarizzi il riconoscimento delle elettrosensibilità in Abruzzo, richieste inoltrate a febbraio 2020. Dunque si chiede ancora di non procedere col progetto. Sempre più medici si attivano perché vengano riconosciuti i diritti e le cure a una fascia di popolazione già colpita dai fenomeni elettromagnetici. Noemi, 25 anni, rivolge un appello ai giovani. Volevo fare un appello ai giovani della mia età che hanno tutti i mezzi per informarsi e alcuni studi già ci sono e possiamo capire che c'è un pericolo comunque dietro questo innalzamento della soglia elettromagnetica. Sappiamo tutti quanti che comunque a noi piace la tecnologia però dobbiamo anche tutelare la nostra salute e quella di tutti gli esseri viventi.